E' stato pubblicato il bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione, recupero e adeguamento della palestra dell'Istituto Scolastico Guli e Pennisi di Acireale. Gli interventi riguardano la realizzazione dell'impianto elettrico e fotovoltaico previsto per il risparmio energetico per un costo di 82.109 euro, la posa degli infissi interni ed esterni e la realizzazione degli spogliatoi, 598.673 euro e la realizzazione della pavimentazione nell'ambito delle opere finalizzate a promuovere le attività sportive e ricreative per un costo di 69.102 euro. I lavori sono finanziati con fondi strutturali europei 2007-2013 nell'ambito dell'asse 2, quella che riguarda la qualità degli ambienti scolastici. Il bando scade il 10 dicembre prossimo alle ore 12, una notizia importante per il liceo classico Guli e Pennisi che da anni attende di avere una palestra per lo svolgimento delle attività sportive. Grazie a tutti.